Dottor Marchione per il Corriere della Sera, allora, per il Corriere della Sera il GIL PSA Opel apre la strada a nuovi accordi, ha detto quali? Niente, credo che la prima mossa è quasi impossibile non guardare questo mondo e pensare di altre possibili alleanze, perché si sono tutti quanti accorti che il vero futuro di questa industria è quella di trovare il massimo nelle sinergie di condivisione di investimenti e di gestione dei business. Quindi ritenterà di corteggiare Mary Barra, ribusterà la sua porta con un mazzo di fiori? Le prometto che non la corteggerò mai personalmente, se lo farò lo farò in maniera istituzionale, grazie. Senta, Carlos Tavares, lei ha detto che è un ottimo maestro di cucina, però non è ancora uno chef stellato come lei, cosa le manca? Vedremo se questa operazione con Opel funziona, sarà un mission in tre stelle. E il Presidente Trump, lei creerà dei problemi, dovrà riconsiderare la produzione negli Stati Uniti? Io credo che abbia degli interessi a riportare in America quello che appartiene in America, non credo che voglia riportare tutto in America, ma noi abbiamo fatto cose come industria dell'auto che in Italia per esempio non avremmo mai potuto fare, quindi bisogna stare molto attenti a essere obiettivi nella valutazione delle sue richieste. Io credo che c'è molto spazio ancora nel sistema nord-americano, nel riallineare la capacità produttiva con la domanda del mercato locale. Pomigliano, modello di auto italiana, è stato definito però dal 2020 la Panda viene costruita altrove, è sicuro? Per necessità di andare altrove. Un pensiero alla Formula 1, visto che ci sono i corsi di testa a Barcellona. Stiamo mettendo, guardi stavo guardando, faccio vedere un attimo come va. Ma è più ottimista l'anno scorso, l'anno scorso si era sbilanciato molto, insomma non è andato benissimo, non è stato proprio scaramantico, è più scaramantico quest'anno. Ho fatto una cavolata l'anno scorso, cosa non farò più. Però la macchina dice meglio, quindi ci sono, e anche regolamenti. La macchina, il Vetter sta ancora girando, quindi. Comunque della macchina è soddisfatto. Molto. E della sua Stelvio è soddisfatto? Molto. E della Giulia pure. E del Levante, della Quattroporte, del Ghibli, di tutte le macchine sono qui.